Un dono e un privilegio. Con queste parole Don Giacomo Pavanello della comunità Nuovi Orizzonti ha sintetizzato ai nostri microfoni la sua esperienza da missionario della misericordia, un mandato che prosegue dopo la pubblicazione della lettera apostolica misericordia et misera e che ha fatto sperimentare durante il giubileo straordinario da poco concluso la presenza materna della Chiesa che accoglie e ama. Mai come in questo momento nella storia dell'umanità l'uomo è veramente vittima di una battaglia tra bene e il male e anche se ci raccontano che l'uomo e la donna di oggi sono potenti, sono vincenti, hanno tutti gli strumenti del mondo, in realtà si rischia di avere tanti strumenti esterni ma di essere fragili personalmente e quando uno è fragile personalmente è molto più a rischio, molto più vittima un po' delle grandi o piccole dipendenze che purtroppo incontriamo in ogni angolo della vita. È molto difficile uscirne fuori se non con questo aiuto straordinario della misericordia di Dio. L'amore di Dio è gratuito, però si fa un po' quell'esperienza di Adamo dopo il peccato originale assieme ad Eva. Dio è presente, Dio va in cerca dell'uomo e l'uomo si vergogna del suo male. Davanti a un Dio che non è giudice, ma è casomai giudice misericordioso, con l'accento sulla misericordia, l'uomo e la donna non si nascondono più e accettano di essere curati, accolti e rigenerati. Ai missionari della misericordia incontrati lo scorso 9 febbraio, Papa Francesco aveva raccomandato di non usare la clava del giudizio nel confessionale, ma di ricordare la propria esperienza di peccatore, cingendo i penitenti con la coperta della misericordia e rimettendo loro anche peccati solitamente riservati alla sede apostolica. Quanto male fa a un penitente, a me penitente perché anche i preti si confessano, andare da un sacerdote e trovare distacco, trovare freddezza, o trovare una gestione del sacramento della confessione in termini quasi economici. Ho fatto questi peccati, tre Ave Marie, ne ho fatti questi altri, aggiungiamo pure due Padre Nostro. Non è forse questo quello che voleva Gesù Cristo nel momento in cui ha pensato a questo ministero di rimettere i peccati da parte dei discepoli, degli apostoli. E quindi ho presente alcune confessioni in cui talmente tanta era la sofferenza da parte della persona che non sono riuscito a rimanere impassibile. Una lacrima è scesa anche a me e mi rendevo conto che da parte del penitente e quella lacrima vista sul mio volto faceva più di mille e mille parole perché era per quella persona, magari era anche totalmente sconosciuta, era un segno, pur sia umano, pur sia limitato, di un Dio che soffre con chi soffre perché quella sofferenza non diventi anche solitudine. Perché la sofferenza quando è abitata da una presenza d'amore la riesce a superare. Quando la sofferenza è vissuta nella solitudine, allora la diventa disperazione.